Oggi vedremo come realizzare un integratore di segnale con un amplificatore operazionale. Sembra una cosa complicata, ma visto che abbiamo già parlato con quelle pillole di matematica di che cos'è un integrale, non dovrebbe sconvolgervi. Quindi andremo semplicemente a misurare alcuni parametri di un segnale fornito all'ingresso e produrremo un segnale in uscita. Vediamo subito di cosa si tratta. Oggi vediamo come realizzare un integratore di segnale. Quindi un circuito realizzato con un operazionale, cui se applichiamo un segnale all'ingresso, questo viene integrato e produrrà un nuovo segnale in uscita. Significa che il valore che diamo all'ingresso, il segnale che diamo all'ingresso, indicherà quanto deve salire o scendere, quindi come deve modificarsi il segnale in uscita. Allora, vediamo un caso semplice. Se io all'ingresso vado a portare un VI, che segniamo qua su questo grafico, che è per esempio un'onda quadra, facendo sì che vada da 1 a meno 1, voi sapete che la pendenza di 1 è pari a 45, perché se vado avanti di un metro salgo di un metro e quindi l'angolo che forma è di 45 gradi. Allora, quello che mi aspetto in uscita è un segnale che avrà la forma di un'onda quadra e avrà l'inclinazione di 45 gradi. Quindi dove il segnale all'ingresso è pari a 1, quindi questa è la pendenza, quindi come cresce, il mio segnale in uscita, VO, salirà a 45 gradi fino a che a un certo punto scatta meno 1, quindi a questo punto scenderà e così via. Questo produrrà un'onda triangolare. Come facciamo a realizzare questa cosa con un operazionale? È semplicissimo, basta sostituire una delle due resistenze con un condensatore. Questo qui è il nostro operazionale ideale, questa è l'uscita. Abbiamo l'ingresso non invertente che mettiamo a massa, abbiamo il segnale VI di ingresso, una resistenza R e la retrazione la facciamo con un condensatore C. Proviamo a vedere i segnali che circolano. Quindi abbiamo delle correnti, una corrente IC che passa all'interno del condensatore e una corrente IR che scorre nella resistenza. Per la parte di ingresso è molto semplice. Abbiamo per la legge di Ohm questo segnale di ingresso, V, la tensione applicata ad R. Qui, visto che questo è ideale, abbiamo che V più è uguale a V meno. Possiamo quindi considerare che il punto A è come se fosse collegato a Gram. Quindi il calcolo della rete di ingresso è molto semplice e abbiamo che la corrente IR è uguale a VI fratto R. Per la tensione di uscita è la stessa cosa, perché abbiamo il condensatore C che è come se fosse collegato tra V0 e massa. Quindi la IC, cioè la corrente del condensatore, si esprime in questo modo, C per DVO su DT. Quindi la variazione del tempo della tensione di uscita moltiplicata per C. Questo l'abbiamo visto in uno dei video precedenti sui condensatori. Eventualmente andatevelo a recuperare. Nel nodo A abbiamo una somma di correnti. Abbiamo la IC che entra, la IR che entra. Hanno tutti e due lo stesso verso. Quindi IR più IC uguale a 0. E quindi possiamo scrivere che IR è uguale a meno IC. Se sostituiamo, abbiamo che VI fratto R è uguale a meno C per DV0 su DT. A me interessa conoscere la V0. Quindi abbiamo DV0 su DT, cioè la derivata della tensione di uscita, che è uguale a meno, il C lo porto sotto, quindi 1 fratto RC per V. Come faccio a togliere la derivata? L'operazione inversa alla derivata è l'integrale. Quindi se integro tutte e due i termini, quindi sia destra che sinistra, ho che VO è uguale a meno 1 fratto RC per l'integrale che va da 0 a T di V in DT. Quindi questa è l'espressione del segnale prodotto, che abbiamo visto si può spiegare in modo semplice come abbiamo visto così, altrimenti matematicamente in questo modo. RC funziona come se fosse il guadagno, quindi devo andare a cercarli per far sì che questo termine sia per esempio uguale a 1 o per esempio se voglio far sì che il segnale di uscita sia un po' più basso, un po' più alto, lì sceglierò in modo che questo termine, 1 fratto RC valga, non so, 0,5 piuttosto che 10, quindi amplifichi o vada ad attenuare. Se volessi farlo pari a 1, visto che abbiamo 1 fratto RC, abbiamo R, immaginiamo di scegliere da 1 mega, quindi 1 mega è 10 alla 6, per se C lo prendo da 1 micro, quindi R 1 mega ohm, e C da 1 micro farad, 1 micro farad è 1 per 10 alla meno 6, quindi questi si semplificano e 1 su RC vale esattamente 1. Quando si realizza in pratica un integratore, conviene aggiungere qualche elemento in più, avremo un circuito fatto in questo modo, abbiamo visto la resistenza di ingresso, che mettiamo uguale R1, lo mettiamo da 1 mega, abbiamo il condensatore che mettiamo qui sopra, qui da un micro farad del nostro C, questo è il segnale di uscita, per renderlo più stabile troverete, se andate a cercare su Intel, tutta una serie di aggiunte, quindi avrete una resistenza aggiunta in parallelo al condensatore, solitamente si mette una resistenza di alto valore, quindi compresa tra 1 e 10 mega ohm, invece che collegare l'ingresso non invertente direttamente a massa, anche qua si mette di solito una resistenza, quindi potete metterla di 10k, queste due aggiunte servono per rendere più stabile il tutto, perché potrebbe, come dire, l'uscita sfuggire facilmente, quindi tenerlo più stabile ed evitare che l'uscita vada alla deriva. Adesso ho provato a realizzare questo circuito su una breadboard, quindi vedrete effettivamente che entrando qua con un segnale rettangolare avremo un'uscita più o meno triangolare, qui lo vedete realizzato su breadboard, qui vedete i due segnali, l'onda quadra applicata all'ingresso e l'onda triangolare all'uscita, vedete che è un po' ballerina, che è un circuito abbastanza critico, comunque è molto regolare. Gli amplificatori operazionali sono importantissimi per andare a elaborare segnali in modo analogico, quindi quello che abbiamo visto oggi è un esempio, nel prossimo video vedremo l'esatto opposto, quindi un differenziatore. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, ciao!